Una riga, una riga, una riga, una mappa, una mappa, una mappa, un tachimetro, un tachimetro, un termometro, un termometro, un termometro, una bilancia, una bilancia, una bilancia, un orologio, un orologio, un orologio, un orologio, un contachilometri, un contachilometri, un contachilometri, un misurino. Si usa una riga per misurare la lunghezza. Si usa una mappa per misurare la distanza tra le città. Si usa un tachimetro per misurare la velocità. Si usa un termometro per misurare la febbre. Si usa un termometro per misurare la febbre. Una bilancia è usata per misurare il peso. Una bilancia è usata per misurare il peso. Un orologio è usato per misurare il tempo. Un contachilometri è usato per misurare la distanza. Un misurino è usato per misurare la quantità. Si usa questa per misurare il peso. Si usa questa per misurare il peso. Si usano questi per misurare il tempo. Si si usa questo per misurare la distanza. Si usa questo per misurare la distanza. Si usano questi per misurare la quantità. Si usano questi per misurare la quantità. per misurare la quantità. Per misurare il peso. Si usano questi per misurare il peso. Si usano questi per misurare il peso. Grazie a tutti.